buongiorno a tutti qui arduino scanato dai arforex.com e in questo video vorrei parlare con voi attraverso degli esempi pratici sulla questione del rischio di più posso guadagnare di più rischio di meno posso guadagnare di meno prima di iniziare però vi chiedo sempre di lasciare un like mi piace al video e iscrivervi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto dopodiché adesso possiamo iniziare con questo video come vedete ho euro dollaro che è sul grafico giornaliero in questo caso specifico ho una piattaforma demo ci tengo a sottolinearlo questa piattaforma che vedete qui è una piattaforma completamente demo non è un reale come faccio solitamente vedere demo proprio perché farò vedere alcune alcuni esempi di rischio alto rischio basso entrando con degli importi che ovviamente e comunque con degli esempi quindi non vado assolutamente a fare operazioni reali perché è solo per un esempio allora sembra ovviamente abbastanza ovvio ed è anche così in realtà che un trader più rischia più può guadagnare diciamo che questa è una cosa abbastanza ovvia non sono qui a sfatare il fatto che uno più tre più rischia più può guadagnare il problema è che non è sempre così quindi anche se in effetti il rischio rendimento quindi il rischio preso è ovviamente in linea quindi è proporzionale al possibile rendimento quindi se io rischio molto ho più possibilità di guadagnare di più non è detto poi che nell'ottica di trading questo avvenga in maniera proprio così realmente come uno pensa perché perché nel trading subentra il fattore psicologico e adesso voglio proprio farvi vedere in questo caso ho aperto una demo sul mio broker che è sempre relativa ai certificati 24 lo potrei fare tranquillamente con cfd non cambierebbe molto ma è aperto questo allora facciamo un esempio prendo un livello di stop come potete notare qui di posizione quindi un ko a 20 89 quindi questo diciamo diventa il massimo rischio e vado a prendere quindi il più basso quindi uno stop alla posizione alla perdita veramente molto molto vicino ai prezzi attuali 1 21 77 1 20 89 potete ben capire che è veramente molto molto rischioso e dentro facciamo un esempio io ho nel conto facciamo un esempio 10.000 euro ci butto 3.000 euro di stop cioè rischio tantissimo metto 3.000 euro di controvalore rischio tantissimo quindi entro con 3.500 certificati che significerebbe 3.500 euro per scusate 35 euro per ogni punto che si muove al rialzo al ribasso quindi se da 21 76 l'euro va a 21 86 quindi fa 10 pips fate 10 pips per 35 euro per punto sono 350 euro solo 10 pips e al contrario se scende farò 350 euro in perdita ok quindi il totale visto che entro qui esco lì sono circa 3.080 euro di controvalore faccio anteprima ordine entro con questo ordine boom mi si va a vedere qua ok va bene benissimo ritorno vado a prendermi dov'è in questo caso ordine eccolo qua vado a riprendere un po anzi non posso prendere ovviamente lo stesso mercato andrò a prendere un altro quindi prendo magari un altro abbastanza simile quindi prendo la sterlina aggiungo lo spazio di lavoro lo metto qui eccolo qui prendo la sterlina e sulla sterlina faccio un'operazione sempre long mettiamo ma la faccio facendo così ma invece di mettere uno stop molto molto schia molto schiacciato vicino ai minimi magari mi vado a prendere una uno stop più ampio eccolo qui qui e soprattutto su questo avendo 10.000 euro sul conto demo in questo caso ma in realtà è un esempio vado a dire va bene di questi 10.000 su questo su questo punto vado a prendere magari prendo un rischio non so di del 5 per cento di questi 10 mila euro del 5 per cento con tutta però con una grandissima e un'ampia la possibilità quindi uno spazio molto più ampio rispetto a prima che invece era uno spazio molto più minimo dopo magari lo andiamo a rivedere quindi questo magari andiamo a vedere un attimo eccolo qui si viene a creare con esattamente 100 certificati un euro per punto non più 35 euro per punto andrò a rischiare 500 euro che è il 5 per cento di 10.000 euro un euro per punto quindi in questo caso 100 sarebbero un controvalore sul mercato un euro per punto significa di circa 10.000 dollari quindi io ho un conto in questo caso facciamo esempio di 10.000 euro ho fatto l'esempio su 10.000 euro benissimo che vado a prendere praticamente un controvalore uguale quindi praticamente è vero uso la leva perché è un prodotto a leva ma non la sto utilizzando perché non sto le vereggiando in realtà nella mia esposizione vado e faccio un'anteprima ordine eccolo qua quindi ho praticamente in questo caso ordine ricevuto ecco qui vedete ho due posizioni due posizioni dove la rapidità di movimento di una è sicuramente molto più guardate ero a 35 euro prima e sono passato a zero nel giro di nemmeno un minuto adesso ero a 35 più sono addirittura meno 7 meno 350 meno 10 questa qui invece guardate meno 3 poi magari potrebbe andare a più 3 quindi ovviamente che cosa significa significa che la prima posizione sull'euro eccola qui ho rischiato molto di più molto di più sterlina dollaro invece ho rischiato quindi più rischio su questo rischiato meno è ovvio che dove è normale questo dove rischio di più euro in questo caso posso guadagnare di più quindi il mio gain gain può essere molto più grande sulla sulla sterlina il mio gain è un po più piccolino eccolo qua molto più piccolino benissimo il problema del trading non è tanto quando andiamo ad avere quindi siamo dalla parte giusta e stiamo magari facendo un qualcosa che in effetti aveva senso fare perché avevamo studiato il tutto e poi il mercato tra l'altro ci dà anche ragione riusciamo ad avere una posizione profittevole voi provate a pensare con 10 mila euro nel conto la mia posizione che ho comprato qui di euro dollaro che è molto rapida vedete come si sta muovendo rapidamente molto velocemente nei suoi profitti e nelle sue perdite in questo caso addirittura è arrivato quasi a 60 euro prima io poi la cosa importante non è tanto sapere perché è ovvio che più rischio e più posso guadagnare ma il problema è poi nella gestione della posizione cioè sia in profitto che in perdita voi provate a pensare e ritorniamo all'euro dollaro eccolo qui questo qua è il mio knock out quindi la mia posizione provate a pensare alla posizione che inizia a scendere rapidamente in modo molto 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 rapido e va qui a qui a qui ci può bastare un giorno oggi può essere che il mercato scenda rapidamente vada qui ecco io avrei perso 3000 euro con 10 di capitale stiamo parlando ovviamente se ne ho 100 è diverso però io sto facendo un esempio per farvi capire anche la differenza tra rischio alto e rischio basso questo caso anche rispetto al conto sarebbe ovviamente pesante ovvio che se ho 100 mila euro rischiare 3000 euro diciamo che stiamo giusti è ovvio che rischiarlo così vicino al prezzo attuale secondo me comunque sempre controproducente però poi sta nella gestione della posizione perché nel momento in cui va giù e mi prende lo stop vabbè ho perso troppo per il conto che ha non andrebbe bene però ho perso un qualcosa che prima avevo dedicato al trading e quindi avevo deciso che potevo perderlo ma il problema è se il prezzo inizia a salire e io non sono settato mentalmente e anche con una certa esperienza nel gestire un certo tipo di guadagno può essere che appena vedo questi 10 pips quindi appena il mercato fa 10-15 pips quando inizia ad arrivare a 300-400 euro quindi fa praticamente va qui io già guadagno 300 euro 400 euro e tendo a chiudere perché poi rapidamente può tornarmi indietro se non sono settato mentalmente non ho il giusto ma anche la giusta consapevolezza il giusto mindset ma anche una giusta esperienza quindi sapere come si muovono i mercati che a volte certi movimenti li fa è ovvio che andrò a prendere quei 3-400 euro e esco voi provate a pensare se io invece rischio meno e soprattutto in questo caso anche rischio rapportato al mio conto era anche giusto e con un paracadute più ampio quindi non sto più ampio in questo caso questo qui è il rischio se io invece ho rischiato così significa 1 euro per ogni punto vuol dire che se fa 10 pip va qui probabilmente avrò 10 euro di profitto quindi per farne diciamo 300 avrò bisogno che l'euro si sposti di quanto? di 300 pips quindi da 21,70, 22,70, 23,70, 24,70 quindi che l'euro per guadagnare lo stesso che guadagno qui con la posizione enormemente importante rispetto a quell'altra guadagnerei qui quindi è ovvio che uno mi dice benissimo io con 10 pips guadagno lo stesso che farne 300 tu sì ci sta è giusto è ovvio il trading è tutto così cioè più rischio più posso guadagnare però più rischio più posso perdere soprattutto più rischio e più sarò in grado di gestire questo è l'importante sarò in grado di gestire non tanto la perdita però anche quella in realtà ma il profitto sono in grado di gestire una posizione come va gestita quindi senza farmi trascinare dal fatto ah sto guadagnando così tanto se la posizione mi ritorna in parita anche solo di 10 pips da 400 euro che ero prima vado a zero sono in grado di gestirla? è questa la domanda che dobbiamo farci quando iniziamo ad avere a prendere dei rischi anche più importanti e questi non sono nemmeno poi proporzionali al conto che si ha ma soprattutto all'esperienza che si ha alla consapevolezza che si ha perché altrimenti noi possiamo anche rischiare tanto perché sappiamo che possiamo in effetti guadagnare di più se rischiamo tanto ma il problema è nel lungo periodo poi questo rischio grande questo rischio più grande che noi prendiamo avrà poi risultati positivi nella nostra equity o no? saremo in grado di gestire le posizioni in profitto in modo che veramente poi alla fine del mese alla fine del trimestre alla fine dell'anno i soldi li portiamo a casa o sarà più le volte che chiudiamo con dei piccoli profitti proprio in termini di punti in termini di movimento rispetto a il vero guadagno che potevamo fare e quindi poi quando invece perdiamo perdiamo magari 3000, 4000 euro, 2000 euro e quando ne guadagniamo perché non siamo in grado di gestire il profitto ne guadagniamo troppo pochi perché questo è il problema grande quindi cerchiamo sempre di settare il rischio e l'investimento che noi facciamo più che altro in base a quella che è non solo il nostro conto ma quello che riusciamo anche un po' alla volta a gestire quindi se abbiamo ormai acquisito una certa consapevolezza di quello che è il mercato di quello che sappiamo fare sul mercato abbiamo acquisito la giusta esperienza sul mercato abbiamo un metodo che ci permette nella flessibilità di capire cosa fare e come gestire le cose ogni giorno poi va appunto lì nella direzione di dire bene una volta che ho questo se ho X soldi tenderò a rischiare magari un po' di più se ne ho Y un po' di meno quindi se ho magari 100.000 euro da dedicare al trading potrò anche permettermi di rischiare 2-3 euro appunto sull'euro dollaro scusate 20-30 euro appunto sull'euro dollaro potrò permettermelo sì ma non dipende solo dal conto dipende anche appunto da tutta la mia esperienza e la mia consapevolezza quindi per finire quello che voglio dirvi per farvi un esempio vedete il rischiare di più nel mercato sì è normale che vi dico può farvi guadagnare di più e sì perché più rischio più posso guadagnare è normale più investo più posso guadagnare però poi nella realtà è proprio veramente così più rischio più posso guadagnare o si iniziano a subentrare nella nostra attività di trading poi tutta una serie di gestione emotiva e quindi che può farmi gestire male non solo le perdite perché perdo molto ma anche i profitti nel momento in cui sono in profitto e quindi è davvero così o forse se invece cerco di gestire il rischio con dei rischi un po' più bassi alla fine poi dell'anno, del mese, del trimestre sarò più in guadagno che rischiare di più la risposta ve la fate voi anche andando a magari a crearvi la vostra esperienza i vostri studi sul mercato e cercare di capire un po' chi siete e cosa fate quando fate trading per quanto mi riguarda in effetti bisogna trovare un equilibrio cioè il rischiare troppo a mio avviso porta a perdite e il rischiare troppo poco porta a non guadagnare quindi dobbiamo cercare di essere equilibrati anche in questo rischiare il giusto quello che possiamo in questo momento permetterci sia da un punto di vista di capitale economico ma anche da un punto di vista di capitale psicologico cercare di capire qual è questo equilibrio e da lì allora cercare di lavorarci questa è la mia risposta io vi ringrazio anche per oggi la pillola si è conclusa spero vi sia piaciuta se vi è piaciuta lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti